Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, è l'ultima puntata del 2023, poi avremo un anno di cronaca la prossima settimana per fare un po' il punto su quanto è avvenuto durante quest'anno che ci stiamo per lasciare alle spalle, ma soprattutto è la puntata che conclude il secondo round di confronti tra i due candidati alla Presidenza della Regione Abruzzo e la conclude con questa nuova fase di interventi e di interviste doppie con il quotidiano Il Centro, con il Presidente della Regione Marco Marsiglio. Buonasera Presidente, bentornato negli studi di Rete 8 che abbiamo addobbato anche con l'albero di Natale come si conviene in questo periodo e soprattutto saluto anche Piero Anchino, il direttore del quotidiano Il Centro che insieme a me cercherà di stimolare il Presidente per qualche notizia da titolo che domani troveremo sul quotidiano d'Abruzzo certamente. Il titolo della scorsa volta Presidente fu impegnato sul, era qualche mese fa, l'ultima volta che ci vedemmo proprio qui, era impegnato sul fatto di questa, era appena uscita la candidatura di Luciano D'Amico come suo antagonista, insomma erano le sue prime dichiarazioni circa questa nomination ed erano anche contenenti un monito rispetto alla sua coalizione, quella di non dare per scontata la vittoria, di mettersi in cammino di stare testa bassa e iniziare a pedalare. Ora vi faccio la prima domanda, poi sarà Piero ovviamente a interrogarla su tutto il resto. Allora questa testa bassa da parte del centrodestra, questo pedalare, iniziare a pedalare subito per prendere la volata lunga, è partita? Beh come no, proprio in quei giorni, subito dopo avevamo degli obiettivi chiari che avevo definito, l'approvazione della legge urbanistica regionale, dopo 40 anni finalmente abbiamo una legge urbanistica aggiornata, aggiornata ai tempi attuali, la vecchia legge era l'epoca dell'espansione edilizia e della cementificazione quasi indiscriminata dei suoli, adesso si parla di sostenibilità e la nostra legge parla di consumo zero dei suoli, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, efficientamento energetico, questa è la nuova legge che lasciamo in eredità all'Abruzzo dopo questo mandato, subito dopo c'era da approvare la rete ospedaliera, altro obiettivo conseguito, praticamente mai l'Abruzzo aveva approvato in una sede politica con legge del Consiglio regionale, la rete ospedaliera, quelle precedenti erano state adottate da commissari, perché? Perché la politica mai in Abruzzo era riuscita a fare sintesi, a trovare da un lato la capacità di presentare una rete che il Ministero potesse approvare, dall'altro comporre le tante spinte e controspinte che avvengono dai territori, noi questa sintesi l'abbiamo trovata e insieme a questa sintesi abbiamo anche dimostrato l'autorevolezza per farci ascoltare a Roma e fare in modo che la rete ospedaliera potesse, nonostante il decreto Lorenzina, nonostante i rigidi parametri che vincono dal 2015 in particolare in poi, abbiamo salvaguardato il tessuto della rete ospedaliera abruzzese e quindi sono stati dei traguardi importanti, ora nei prossimi giorni con i soliti riti natalizi e prima di Capodanno si approverà anche il bilancio e andiamo a concludere la registratura portando a casa risultati molto molto importanti. Ma è cresciuta quella consapevolezza che lei ha indicato come bussola alla coalizione il fatto che bisogna lottare, non bisogna dare questa partita già per vinta, in tutti i partiti, in tutti i candidati. Ma sì, ma certamente, peraltro nel corso di queste settimane i partiti stanno formando liste molto forti, alcuni come Fratelli d'Italia li ha anche già chiuse e annunciate, è segno di buona salute, quando con 3-4 mesi di anticipo si sa già chi sono i candidati, si susseguono e io stesso partecipo a molte aperture di comitati elettorali, di iniziative, quindi si è già di fatto già in clima di mobilitazione e questo naturalmente è indizio del fatto che i nostri sanno e hanno capito che il consenso bisogna guadagnarselo e la fiducia bisogna coltivarla. Direttore Anchino. Allora, sì, sono tanti temi di grandi attualità che bisogna affrontare. Io vorrei riagganciarmi un attimino al discorso iniziale legato al suo avversario, chiamiamolo così, Luciano D'Amico. Nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto la settimana scorsa, D'Amico ha detto che alla politica urlata preferisce il confronto sulle idee e l'ha invitata qui in questi studi e in una trasmissione da fare assieme per confrontarsi proprio sulle idee. ha detto non ho domande particolari, noi abbiamo invitato a farle qualche domanda, ha detto non ho domande particolari da fare al Presidente, però mi vorrei confrontare con lui sulla bontà delle nostre idee, sulla validità delle nostre idee, senza urlare, senza scontrarci. Dobbiamo uscire dalla logica della politica urlata per confrontarci sui progetti, sulla bontà dei nostri programmi. Ecco, vorrei fare un paio di domande su questo argomento, innanzitutto lei è disponibile a un confronto anche a breve con il suo avversario, sulle idee le ha anche augurato una buona campagna elettorale, quindi con un profilo diciamo un po' anche anomalo nella politica di oggi, quindi augurandole una buona campagna elettorale l'ha invitata a un confronto, lei è disponibile a un confronto di questo tipo? Il confronto è già in corso perché credo che quotidianamente queste idee si confrontano in tutte le sedi, spero davvero anche io di poter fare una campagna elettorale basata su un confronto civile, ragionato, un dialogo serio sui contenuti e sulle idee, registro che in questi cinque anni in Consiglio regionale i consiglieri regionali di centrosinistra che lo appoggiano in campagna elettorale hanno fatto tutt'altro, hanno inevitabilmente e quasi monotematicamente e noiosamente annunciato ostruzioni smisterili, fatto pagliacciate in aula con le ghigliottine, con i cappelletti, con le manette, facendo anche da questo punto di vista insinuazioni fuori luogo e molto volgari, quindi è stato difficile in questi anni trovare all'interno del centrosinistra, dell'opposizione persone che potessero far salire la qualità del dibattito, spero che il professor D'Amico contribuisca anche a questo e siccome tra poche settimane inizia ufficialmente la campagna elettorale le regole si conoscono, faremo i confronti previsti con la legge che vige, la cosiddetta parcondicio, non so se D'Amico sarà l'unico sfidante, lo vedremo al giorno in cui saranno presentate le liste, devo dire agli amici di Rete 8 e del Centro che la stesso invito me l'hanno fatto almeno altre 7-8 testate televisive giornalistiche, quindi se avessi passato il tempo ad accettare i confronti in tutte le sedi non avremmo fatto altro che questi confronti, magari diventava pure un po' noioso e stucchevole per gli abruzzesi, perché sembrava così un torsio, neanche fossimo scritturati, quindi arriverà a breve, ci sarà il momento e naturalmente… L'ultimo mese diventerete una sorta di compagnia di giro in qualche modo. Esatto, nell'ultimo mese andremo… non mancheranno le occasioni, infatti rischieremo quasi di annoiare… Ma lei ritiene vedere più d'amico che sua moglie in quel periodo… Esattamente, esattamente… E non è una bella cosa, ma lei ritiene che la sua politica sia urlata Presidente? A me non sembra di aver mai urlato troppo, se non quando serva ogni tanto alzare la voce e battere qualche pugno serve anche a portare a casa i risultati, soprattutto quando una regione è molto piccola… Soprattutto con gli alleati forse… Con tutti, ci sono i momenti della mediazione, avvengono sia dentro la famiglia che fuori dalla famiglia e lo stesso vale per le coalizioni, ci sono momenti di confronto anche aspro all'interno e ci sono momenti di confronto tra maggioranza e opposizione, ci sono momenti di confronto istituzionale in cui l'Abruzzo si confronta con le altre regioni, si confronta con i ministeri, con il governo, ne ho affrontati diversi in questa legislatura regionale, ho avuto a che fare con il governo Conte I, Conte II, Draghi e Meloni, quindi ho avuto a che fare con diversi ministeri, con diverse geometrie e diverso tipo anche di alleanze e di maggioranze politiche e quindi anche di ruoli e credo di aver saputo interpretare in questi anni comunque la posizione a difesa degli interessi della nostra regione, portando a casa risultati eccellenti, quelli che da anni venivano considerati ormai delle chimere, cito per tutti i quasi 400 milioni di Euro che da 25 anni restavano fermi nei cassetti dei ministri della tesoreria dello Stato e che saranno destinati all'edilizia sanitaria, con i quali realizzeremo ospedali nuovi, alcuni dei quali sono ormai pronti in gara d'appalto, i comuni deliberano e cedono i terreni, siamo ormai avviati, i progetti sono approvati o appaltate le progettazioni esecutive, siamo ormai arrivati, si tratta soltanto di continuare e chiunque sarà a governare la regione farà questi ospedali e li consegnerà ai cittadini e credo che questo sia una cosa di cui potrò andare orgoglioso per tutta la vita. Ecco, tra le idee e i progetti su cui confrontarsi il candidato d'amico ha posto l'accento in maniera particolare sulla sanità, le opposizioni ribadiscono quasi quotidianamente come sia sempre più difficile curarsi in Abruzzo, volevo chiederle, lei ha questa percezione? No, la percezione generale è che ci sia una difficoltà in tutta Italia, poi è chiaro che chi sta in Abruzzo e deve fare la campagna elettorale si mette a dire che l'Abruzzo sarebbe tra i peggiori, i dati a confronto con le altre regioni dimostrano semmai il contrario, perché tutte le statistiche dimostrano che abbiamo fatto passi in avanti, che la regione Abruzzo è tra le poche regioni italiane che ottempera tutti i livelli essenziali dell'assistenza e dei servizi, questo non vuol dire che l'Abruzzo è il regno del Bengodi e che qualunque malattia e qualunque malanno venga affrontato subito, presto, bene, che nel pronto soccorso non si facciano le file, si fanno in tutta Italia, anche perché la medicina territoriale è stata per decenni abbandonata e solo adesso con il PNRR si stanno investendo soldi che nei prossimi due o tre anni devono portare ad aprire gli ospedali e le case di comunità, dove trasferire gran parte di quelle urgenze che poi urgenze non sono, ma che affollano i pronto soccorso, stiamo facendo investimenti importanti, ho appena citato quelli sull'edilizia sanitaria che trasformeranno i nostri luoghi di cura, li renderanno più efficienti, più moderni, anche più confortevoli, non stiamo trascurando nel frattempo i vecchi luoghi di cura, faccio solo l'esempio di Avezzano che sarà praticamente il primo ospedale che costruiremo nuovo, ma quello vecchio intanto noi abbiamo fatto i bagni, so che può sembrare strano, ma chi non è di Avezzano o della Marsica forse non sa che in quell'ospedale da 40 anni le camere di leggenza erano un po' come i vecchi sanatori, dove ci stavano 4 o 6 persone dentro una stanza, poi stanza e stanza e stanza e stanza e il bagno in fondo, quindi i malati escono con la flebbo, arrivano fino al bagno in fondo, questa roba è stata anche strumentalizzata durante il Covid da qualcuno che l'ha diffusa in giro per l'Italia per dire che non si sa che cosa avessimo fatto, la verità era quella che in questo ospedale da decenni quella è la condizione di disagio in cui i malati, noi abbiamo fatto una cosa magari banale, non complicatissima, però non ci ha pensato nessuno prima di noi, abbiamo rifatto fare i bagni, dentro tutte quelle camerate si è realizzato il locale per i servizi igienici, oggi i pazienti nell'ospedale di Avezzano non devono più transumare lungo il corridoio per arrivare al bagno in comune dove magari ci vanno in 50 con condizioni igieniche e sanitarie naturalmente compromesse, abbiamo restituito dignità ai pazienti di quell'ospedale e nel frattempo sta per partire la gara d'appalto per fare l'ospedale nuovo perché quello è sismicamente irrecuperabile, molto pericoloso ed è quindi la priorità numero uno nell'edilizia sanitaria negli ospedali che realizzeremo. Lei prima ha accennato alla rete ospedaliera, l'approvazione l'altra settimana ha provocato come prevedibile anche una serie di reazioni negative soprattutto da parte delle opposizioni, ma in particolare dal territorio terramano si sono levate tante voci di protesta, ma le ritiene che questa sia una sommossa soltanto elettorale oppure ci sono delle criticità che forse dovevano essere affrontate diversamente? No, ma c'è solo la strumentalizzazione elettorale di chi aveva presentato peraltro una rete precedente perché il centro-sinistra non solo non è riuscito ad approvare una rete, ma fece una proposta che non presentò mai nemmeno al Ministero, neanche per provarci a farsela approvare, che era molto peggiore di quella attuale, peraltro in provincia di Teramo il piano tutti lo conoscono, lo sanno oggi persino un uomo, un ex sindaco del Partito Democratico di Giulianova si è messo a contestare il consigliere Dino Pepe, all'epoca assessore della giunta ad Alfonso e gli ha dovuto ricordare, ma perché vieni a Giulianova a fare campagna elettorale sull'ospedale quando tu eri quello che aveva presentato un progetto secondo il quale si faceva l'ospedale provinciale a Teramo e gli altri venivano praticamente chiusi e ridimensionati a medicina territoriale, questa è la verità, noi abbiamo salvaguardato tutti questi presidi, gli abbiamo dato delle funzioni e delle destinazioni precise, lo abbiamo fatto nei limiti di quello che consente la normativa attuale, quindi poi se si vuole fare speculazione andando in giro a dire a ogni medico tu farai il primario e apriamo tutte unità operative complesse, facendo credere poi ai pazienti che se un'unità operativa invece di essere complessa e semplice non vengano curati, è falso, la differenza è solo che c'è o non c'è un primario che magari avrà uno stipendio un po' più alto del dirigente medico che guida un'unità semplice, ma l'attività si fa, uculistica, cardiologia, l'importante per i cittadini e sapere se vanno lì, se trovano gli strumenti, l'ecografo, l'elettrocardiogramma, la risonanza magnetica, che è quello che stiamo facendo, il numero di posti letto è il massimo che possono oggi contenere quei nosocomi, chi anche specula sul numero dei posti letto parla per sentito dire, perché basta che lo chiedete al direttore generale, non all'assessore che magari esprime una posizione politica, se avessimo dato altri 50 posti letto all'ospedale di Teramo non sapevano dove metterli, neanche negli scantinati, Teramo semmai attendiamo dal centro-sinistra che governa la città che finisca la tarantella su dove si deve fare l'ospedale, abbiamo preteso e ottenuto finalmente a ottobre scorso, dopo mesi che lo chiedevo, che il Consiglio Comunale si pronunciasse, ma quando si è pronunciato, si è pronunciato costituendo un tavolo, facendo una commissione, che peraltro abbiamo dovuto riunire noi come regione, la commissione costituisce il comune ma chiede alla regione di... Quindi siamo ancora a zero, si rischia di perdere questi fondi? No, stanno facendo le riunioni, perché poi io naturalmente non mi tiro indietro e quindi dobbiamo riunirla noi, la commissione, la convochiamo noi, la stiamo convocando, hanno già fatto due o tre sedute, stanno facendo i sopralluoghi, sono venuti i tecnici che sono stati indicati come esperti, spero che nel giro di poche settimane gli esperti ci diranno se l'ospedale si può fare a Villa Mosca o se si deve fare altrove e che magari di fronte alla parola di esperti di indubbia preparazione professionale, perché sono state individuate persone della massima esperienza a livello nazionale, le polemiche finiscano e la si smetta di dire che la collocazione di un ospedale è una questione di destra o di sinistra, dove si colloca un ospedale è semplicemente una questione di buonsenso, di competenza, di efficienza, di collegamenti, di connessioni e così via. Per chiuderla Presidente, sulla rete ospedaliera c'è chi vi è accusato esattamente del contrario, cioè del fatto di aver voluto accontentare tutti per motivi elettoralistici e territoriali, visto che ci sono le elezioni e quindi di non aver preso scelte coraggiosi, per esempio sul DEA di secondo livello. Ma guardi sul DEA di secondo livello, qui non è che non abbiamo indicato il DEA e poi noi abbiamo avuto per anni il Ministro Speranza che sulla base del decreto Lorenzin, altro ex Ministro del Partito Democratico, ci teneva bloccata l'approvazione della rete se non avessimo individuato un DEA di secondo livello, che è l'argomento che ha tenuto bloccata la questione in Abruzzo per dieci anni e che noi abbiamo sbloccato in maniera virtuosa, cioè noi abbiamo fatto passare al Ministero quel principio di DEA di secondo livello funzionali e integrati tra loro, chi è di Pescara da un lato e l'Aquila Teramo dall'altro, senza mortificare nessun centro provinciale, senza rischiare di accorpare in un unico centro delle funzioni che poi da tutto il resto dell'Abruzzo sarebbe stato difficile raggiungere, la differenza sa qual è, che quando il centrosinistra ha provato a presentare questo modello non ha ottenuto ascolto al Ministero, gli hanno detto di no e lo hanno cominciato a dire anche a noi finché il Ministro era del loro partito, la differenza è che quando il Ministro è diventato Orazio Schillaci e il Capo del Governo Giorgia Meloni, il Presidente Marco Marsilio si è fatto ascoltare dal Ministro e dal Capo del Governo, hanno capito qual era il progetto innovativo, sperimentale che andavamo a proporre e abbiamo trovato questo compromesso virtuoso che consente all'Abruzzo di non mortificare tre province su quattro per sceglierne una sola dove fare l'idea di secondo livello, mettendo a rischio la qualità dell'offerta sanitaria soprattutto di emergenza urgenza nel resto del territorio e a tutta l'Italia di guardare all'Abruzzo come un progetto pilota perché non c'è solo l'Abruzzo ad avere questa difficoltà, ce l'ha la Liguria, ce l'ha la Basilicata, ce l'ha la Calabria che è una regione che ha più o meno gli stessi, poco più degli abitanti dell'Abruzzo ma sparsi su 4-500 chilometri di estensione, voi potete immaginare che in Calabria si possa fare un solo idea di secondo perché i numeri e i parametri sono più o meno gli stessi, allora molte regioni hanno questa stessa difficoltà ed è la difficoltà che hanno tutte le regioni con bassa densità demografica, perché il principio di fare gli ospedali idea di primo e secondo livello è una determinata emodinamica, sulla base dei numeri, i punti nascita, noi abbiamo salvato il punto nascita di Sulmona che secondo le regole doveva chiudere già da molti anni, che il Ministro Speranza ci chiedeva di chiudere se no non ci approvava la rete e Schillaci e Meloni ci hanno invece fatto tenere aperto, lo abbiamo integrato con quello di Avezzano per avere la sicurezza del numero di parti che consente ai medici di avere l'esperienza necessaria per gestire con sicurezza il parto, ma se noi dovessimo rispettare quei numeri dovremmo chiuderlo anche a Lanciano, perché anche Lanciano è sceso sotto i 500, la denatalità è un problema generale e non è che la lotta alla denatalità si può fare chiudendo i punti nascita, questo è un fatto anche culturale, la differenza tra prima e dopo, tra ieri e oggi è questa, che oggi c'è un governo di destra che capisce queste urgenze, che culturalmente è favorevole a queste politiche e concede all'Abruzzo la possibilità di mantenere aperti i punti nascita, di sperimentare su idea di secondo livello un modello diverso da quello che imponeva il decreto Lorenzin e il centro-sinistra non ci è riuscito e non si è fatto ascoltare, ma non perché avesse un governo nemico, erano quando hanno governato loro, avevano il governo con il Presidente del Consiglio del loro partito, con il loro Ministro, però non si sono fatti ascoltare e non hanno portato a casa il risultato, io credo che su questo si misuri la differenza e il beneficio che l'Abruzzo ha avuto con la Presidenza del Sottoscritto, con Giorgia Meloni eletta in Abruzzo che diventa Presidente del Consiglio e una regione che quindi ha acquistato centralità, autorevolezza, ascolto nei palazzi che contano, mentre prima era solo una piccola regione che contava poco e che pesava poco, sia economicamente, sia socialmente e anche elettoralmente, questa è la differenza. Diciamo che le condizioni per un confronto sereno con Luciano D'Amico cominciano a venire meno, perché lei ha sempre questa tendenza a ribarcare le criticità del centro-sinistra Io non credo che D'Amico quando parli non parli delle mie criticità, dal suo punto di vista lui racconta che la gente scappa dall'Abruzzo, che la sanità è finita e nessuno sicura, che sul trasporto è tutto uno sfascio, ieri abbiamo firmato un nuovo contratto di servizio con Trenitalia, quello che qualcuno scommetteva che non ci saremmo mai riusciti e così via, quindi che cosa fa? critica, l'azione, ma legittimamente, se no non era all'opposizione, mi avrebbe votato se non aveva critiche da fare, avrebbe fatto una lista a mio supporto, è normale che in democrazia si abbia la libertà di pensarla diversamente, faccio la mia parte, racconto quello che ho fatto, racconto anche però che cosa non hanno fatto o che cosa hanno fatto di male, prima di me quelli che hanno governato l'Abruzzo e oggi pensano di darci lezioni. Sempre in tema di sanità e poi chiudiamo e passiamo magari ad altri argomenti, una logica di accorpamento delle risorse regionali, è iniziato la Camera di Commercio con la fusione Pescara-Chieti e poi Teramo-L'Aquila, adesso Confindustria, con Teramo che si unisce a Pescara-Chieti, ecco, è ancora una logica avere quattro Hasle così separate tra di loro che sembrano galleggiare separatamente senza mai incontrarsi, il candidato d'amico ha detto che se dovesse riuscire nell'impresa di vincere le elezioni farebbe un'apertura importante per un discorso più... Noi siamo sempre stati aperti a questa possibile soluzione, dopodiché certo si governa per priorità, è più facile dividere che unire, è facile dividere l'Abruzzo dal Molise e creare una nuova regione, ma se oggi qualcuno pensasse di riunire due regioni sarebbe una potete immaginare... Lo stesso vale per le Asle, noi stiamo ancora liquidando l'Asl di Lanciano e di Vasto e guai a chiamare diversamente l'Asl di Chieti che è provinciale e potrebbe tranquillamente chiamarsi Chieti, come quella dell'Aquila si chiama, l'Asl di Avezzano sul Mona l'Aquila perché porta l'eredità di tre Asle che si sono unite in una sola e ancora stiamo con le procedure di liquidazione delle vecchie Asle, in tempi di Covid dobbiamo fare la rito ospedaliera, facciamo l'accordo di programma, ci siamo concentrati su altre priorità, adesso che abbiamo messo a posto questa roba e che partono i cantieri del PNRR per fare le case di comunità, gli ospedali di comunità, la riflessione su come è meglio organizzare dal punto di vista dell'organizzazione burocratica e amministrativa le nostre Asle è sicuramente la possiamo affrontare con una prospettiva diversa e con una prospettiva anche di lungo termine. Secondo lei potrebbe funzionare meglio l'Asl con un discorso più di… Ci sono diversi modelli possibili, per dire in Abruzzo non esiste un'agenzia delle emergenze, in altre regioni esiste l'Ares 118, l'agenzia regionale per le emergenze, per il pronto soccorso che gestisce in maniera unitaria tutti e quattro, tutti, cioè quattro dico nel senso delle quattro Asle, però tutti i pronto soccorso presenti sul territorio e tutte le ambulanze e le postazioni di urgenza, l'Abruzzo non ce l'ha, anche qui c'è una riflessione da fare se è utile, nel frattempo abbiamo con fatica realizzato le due centrali territoriali, per ora siamo a due centrali del 118, abbiamo fatto partire quella più volte promessa e annunciata ma mai realizzata, che è la centrale unica tra Chiedi e Pescara che sta come sede fisica nei locali dell'aeroporto e stiamo realizzando i locali anche qui, realizzando un sogno che era rimasto sulla carta e portando finalmente anche il contributo che ci diede l'Emilia Romagna dopo il terremoto per realizzare la centrale 118 all'Aquila, i lavori sono in corso, il cantiere è all'opera, quindi questo lavoro di cercare di unificare l'unificabile e fare sintesi, lo abbiamo fatto anche al di fuori delle AS facendo decollare l'Agenzia per la committenza che era praticamente in stato di abbandono, le AS avevano i loro uffici acquisti tutti separati tra di loro, raramente accorpavano la spesa agli acquisti anche per realizzare i guadagni, i risparmi che si fanno quando si acquistano tante cose insieme invece che fare tanti piccoli appalti, questa agenzia è decollata, è talmente in salute che il Ministero dell'Economia l'ha premiata quest'anno come la migliore d'Italia, lo ricorderete l'ARIC 5 anni fa, era un'azienda decotta, non aveva neanche un rappresentante legale, aveva due dipendenti chiusi dentro uno scabuzzino che trovai mortificati da una disattenzione totale, mi segnalarono subito l'urgenza di farla funzionare e oggi abbiamo un'Agenzia che mette a gara più di 4 miliardi all'anno di servizi, opere e forniture che sta raggiungendo risultati molto importanti anche in termini di risparmio, c'è ancora molto da fare, soprattutto sulla spesa farmaceutica, è uno dei punti critici su cui dobbiamo continuare a lavorare per abbassare e allineare il costo medio al resto d'Italia, però siamo sulla strada giusta. Bene, ora ci fermiamo per qualche istante e tra poco torneremo in studio per la seconda parte di questa doppia intervista, linea alla regia. Eccoci qui, siamo tornati in studio con il Presidente Marsilio e il Direttore Anchino che ha in serbo una nuova domanda. Sì, nell'ultimo Consiglio regionale lei ha fatto un intervento che ha provocato un bespaio di reazioni, mi riferisco in particolare alla frase sui faccendieri legati a progetti di finanza che giravano con le borse per Roma, poi c'è stata una reazione, diciamo tutt'altro che distensiva da parte dell'Onorevole D'Alfonso, ecco io le vorrei chiedere, lei ridirebbe una frase del genere, lo rifarebbe oppure è stato uno sfogo momentaneo di cui magari poi ci si pente dopo poco tempo? Ma io non ho rivolto nessuna accusa personale circostanziata, se avessi avuto elementi del genere da mocca stavo alla procura come qualcuno mi invita di fare oggi, non so se qualcuno abbia la coda di paglia su questo argomento, la realtà dei fatti è che io farò degli ospiti con i soldi pubblici che stanno fermi a Roma da 25 anni e che nessuno è riuscito a portare in Abruzzo, li faremo con appalti e modalità trasparenti, mentre i project financing che erano stati presentati illudendo gli abruzzesi che avrebbero fatto tutti gli ospedali del mondo in Abruzzo con i soldi anche dei privati, sono finiti in un castello di carte perché le ASL stesse che hanno ricevuto questi progetti li hanno dovuti bocciare, lo ha fatto l'ASL di Teramo, per tre volte gli è stato presentato un project e per tre volte l'ASL ha dovuto dire che quella proposta non avrebbe soddisfatto la pubblica utilità e avrebbe creato un debito insostenibile per l'ASL, lo stesso ha fatto l'ASL di Chieti per il project all'ospedale di Chieti, anche lì un project assolutamente sovradimensionato e con pretese economiche che avrebbero affossato per decenni la sanità chietina e la sanità abruzzese in generale, coprendoci di debiti, quindi la differenza è questa, qualcuno aveva presentato dei progetti di finanza che avrebbero accollato un sacco di debiti e poi è chiaro che su un progetto di finanza molto vantaggioso evidentemente per il proponente privato è qualche interesse privato che si muoveva a dire, a caldeggiare, anche a minacciare perché è di pubblico dominio, d'altronde è stato fatto un processo di fronte al Tribunale amministrativo su questo perché qualcuno che si è visto bocciare il project ha provato anche a fare ricorso appellandosi a una delibera che fece in maniera rituale il mio predecessore per dichiarare una pubblica utilità che non esisteva e che noi abbiamo revocato accertando che era l'esatto contrario, che la pubblica utilità e l'interesse pubblico era di annullare quel project e di finanziare la ristrutturazione dell'ospedale con i soldi pubblici che stiamo portando per l'ospedale di Chiedi in particolare 60 milioni, sono oggetto di un accordo di programma in itinere, il nucleo di valutazione del Ministero della Salute ha già approvato il progetto che l'ASL ha presentato e così noi faremo le cose spendendo i soldi giusti e non un multiplo di quello che è necessario senza soddisfare nessun appetito privato e facendo le cose nella maniera più trasparente e corretta possibile. Presidente, le opposizioni, il PD in particolare, comunque le opposizioni l'accusano di aver dirottato per altri scopi ingenti fonti del masterplan Abruzzo, come i fondi per il porto di Ortona e per il Fucino, è così? No, non è così, il governo di sinistra che governava il Conte 2, il governo giallorosso che è la stessa coalizione che sosterrà Luciano D'Amico, quando c'è stato il Covid non ha dato alle regioni soldi per affrontare l'emergenza Covid, ha detto alle regioni prendete i soldi che avete in cassa per i finanziamenti dei fondi europei e per i finanziamenti, qui lo chiamavano masterplan del Fondo Sviluppo e Coesione e li utilizzate invece che per fare quelle opere per affrontare l'emergenza Covid, se non avessimo fatto questo noi non avremmo potuto distribuire i soldi a fondo perduto alle imprese, alle famiglie, alle aziende, non avremmo potuto affrontare l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica del Covid, perché l'unica possibilità che avevamo di farlo e abbiamo impegnato oltre 200 milioni di euro in una maniera molto efficace, era questa, abbiamo preso le opere all'interno del cosiddetto masterplan che non avevano una maturazione progettuale tale che poteva prevedere un completamento delle opere nei termini stabiliti, anzi paradossalmente se non ci fosse stato il Covid che ci ha dato l'opportunità di prendere quei 200 milioni e usarli per affrontare l'emergenza, noi avremmo rischiato concretamente di perdere quei fondi, perché alcune di queste opere su cui continua questa giaculatoria, il manicomio di Teramo e così via, stanno ancora finendo di progettare, il progetto del Fucino ci è stato depositato poche settimane fa, pochi giorni fa è arrivato finalmente il progetto che si può mettere a gara, perché prima non c'era niente e la scadenza dei termini per questi progetti era al 31-12 dell'anno passato, non di questo, quindi noi abbiamo messo in sicurezza quelle opere, perché le abbiamo definanziate ma gli abbiamo lasciato i soldi necessari a completare le progettazioni e nel prossimo accordo di coesione che tra pochi giorni andremo a concludere, quelle opere saranno tutte refinanziate, il Fucino in particolare avrà un finanziamento quasi doppio rispetto a quello previsto, perché i progetti fatti adesso e fatti per bene mostrano un diverso importo, un diverso impegno, quindi non solo per la Piana del Fucino si spenderanno i 50 milioni a suo tempo previsti e sui quali non sono stati capaci all'epoca di fare progetti cantierabili, ma noi che abbiamo fatto i progetti cantierabili ce ne metteremo almeno 80 se non 90 in una prima formulazione, perché poi il progetto complessivo è ancora più ampio e nei prossimi anni sarà necessario reperire altre risorse per completare un progetto molto ambizioso che però si risolverà in maniera definitiva un tema molto molto importante. Presidente, si è invocata un po' la stessa logica, quella dell'immediata cantierabilità rispetto al discorso dei fondi PNRR riguardanti la Pescara Roma, ma lei ha la certezza ad oggi può ridire di una disponibilità finanziaria, di una strategicità progettuale legata ad essa perché quest'opera si faccia davvero? Perché non dovrei credere al governo, qui in Abruzzo è venuto il Ministro dei Trasporti Salvini a Silvi a ribadire che l'opera è nelle priorità del governo, il Ministro Fitto ha più volte in tutte le sedi, compresa il caso specifico della Roma Pescara, lo ha fatto durante l'Economy Summit a cui ha partecipato di persona, ma più in generale ha sempre ribadito tutte le opere che escono dal PNRR verranno rifinanziate, a meno che non si ritengano inutili, però tutte le opere verranno rifinanziate con altre fonti di finanziamento, quindi perché continuare ad alimentare ossessivamente la polemica, il dubbio che non si farà, RFI è andata avanti, ha progettato, ha concluso le progettazioni, ha anche resistito in giudizio contro un comune guidato dal Partito Democratico, perché poi è un po' divertente questa storia che vediamo, il Partito Democratico in piazza con le bandiere per fare la ferrovia e quando arriva il progetto, i soldi, il cantiere pronto, sta in piazza con le bandiere per dire no e va al TAR perdendo, perché era infondato quel ricorso, perché tutto è stato fatto secondo le regole, con il dibattito pubblico, il confronto tra più opzioni, con le autorizzazioni ambientali, culturali, paesaggistiche, tutto quello che serviva e purtroppo la variante che si chiedeva e che anche noi avremmo sostenuto impatta sull'esondazione del fiume Pescara, su una serie di vincoli che non si poteva superare e quindi l'opera si farà secondo il progetto che è stato poi condiviso in conferenza dei servizi e io aspetto a giorni che i primi lotti vengano assegnati e sbloccati, la gara d'altronde è in corso, c'è l'istruttore, ci sono le buste aperte, come sapete, come anche il vostro quotidiano ha pubblicato, che sta seguendo con molta attenzione questa procedura. Va bene, il discorso dell'infrastruttura è molto importante, interessante, magari lo riprendiamo, io però vorrei aprire una parentesi, che siamo a fine anno, tempo di bilanci, di cose di cui essere soddisfatti, se non fieri, e di cose da cancellare, ecco, vi permetto di dire che tra le cose da cancellare, secondo me c'è quel tuffo alle naiedi, lei è d'accordo? No, non sono d'accordo, so che su questo si è fatta tanta ironia, la panzata, d'altronde quando mi tuffo io diventano tutti clausi di Biasi, quindi in attesa di vedere qualche clausi di Biasi che si tuffi, meglio del sottoscritto, io ho difeso e sto ancora lavorando perché le naiedi siano aperte e in quel momento l'interesse pubblico era aprirle, la procedura che ha seguito Are come io credo che sia corretta, purtroppo l'impresa unica che aveva partecipato alla gara, quando si è fatta l'istruttoria di merito, perché c'è una prima fase in cui si fa un'istruttoria formale, formale significa che c'è un elenco di documenti che devono essere presentati e che il proponente ha dichiarato e depositato nella piattaforma telematica come depositati, quindi quella istruttoria formale era positiva, c'erano tutti i documenti, quando un mese dopo gli uffici aprono le buste, esaminano le carte, verificano che la garanzia fidei chiusoria non poteva essere rilasciata da quella compagnia, a quel punto hanno dovuto revocare, ma nel frattempo se noi avessimo atteso avremmo avuto le naglia di chiuse da Ferragosto fino a Natale, questo significa perdere un'intera stagione, depreciare l'impianto perché poi la clientela va altrove ed è difficile farla tornare quando l'utenza va altrove, si rischiava anche di danneggiare gli impianti perché le piscine che restano senza acqua, senza manutenzioni, senza nulla, quindi noi ci siamo sbrigati a far aprire le piscine, a permettere all'utenza di rientrare, purtroppo poi si è aperto un vespaio di polemiche che ha sollevato l'interesse della Procura, io penso che il nostro direttore dell'agenzia della committenza abbia fatto le cose per bene e che lo dimostrerà durante l'istruttoria e confido serenamente nella capacità di giudizio della Procura della Repubblica di Pescara che comprenderà che non c'era niente sotto, come dire, perché anche su questo si sono fatte troppe illazioni, nel frattempo noi stiamo lavorando perché possano riaprire presto, affideremo in economia una nostra azienda, stiamo lavorando per mettere a punto i dettagli di questa operazione, visto che le operazioni tese a dare un affidamento di mercato falliscono e falliscono perché quell'impianto ha accumulato nei decenni troppa mancata manutenzione, troppo ritardo tecnologico, è un impianto energivoro, vanno fatti interventi consistenti e quindi non abbiamo trovato, non si trova sul mercato qualcuno che abbia forze a lei un'idea ce l'ha, gestione diretta, università, comune di Pescara, cioè lei come vede l'ennaide del futuro in una gestione che sia sostenibile anche economicamente come lei dice? Spero tra qualche giorno di poter approvare in giunta una delibera, non posso come si dice oggi spoilerare il risultato finale ma abbiamo un'idea chiara su cui un gruppo di lavoro guidato dalla dottoressa Valenza che ringrazio per l'enorme lavoro che sta svolgendo anche su questo fronte, individuerà una soluzione, confido nel fatto che entro il mese di gennaio le nagliari saranno riaperte e affidate anche ad una competente direzione sportiva e manageriale. Lo speriamo tutti perché quello che era un fiore all'occhiello nel panorama degli impianti sportivi regionali e non solo sportivi perché non dimentichiamo che le nagliari erano teatro anche di spettacoli di primissimo livello, di concerti, se vuole insisto anche perché poi io a essere stato aggredito. Mi perdoniamo di parlare di inchiesta, se si basa su illazioni avrei qualche perplessità perché comunque se l'inchiesta è partita probabilmente ci sono elementi da attenzionare. Vediamo che cosa accadrà, ripeto che sono sereno perché a meno che il dottor Cavallo non mi abbia detto bugie ma sono assolutamente convinto della trasparenza con cui ha gestito questa operazione, non c'è nulla dietro, non c'è una combina, non c'è stato nessun favore fatto a privati, l'unica premura che noi abbiamo avuto era quella di fare in modo che le nagliari potessero riaprire all'inizio della stagione e che quelle piscine che qualcuno ha svuotato senza giustificato motivo, lasciandoci l'impianto perché quando si svuota una piscina si fa a un danno economico diretto, c'è l'acqua costa, b un danno economico indiretto perché le piscine una volta che perdono la pressione rischiano dei danni, ogni operazione del genere è pericolosa da questo punto di vista e comporta un surplus di manutenzione, quindi la verità è sulle nagliari, quando 5 anni fa io sono entrato in carica ho trovato le nagliari fallite in mano a un soggetto che oggi sta difendendosi a processo per quello che è accaduto, anche lì vedremo che cosa deciderà questo processo, però è un processo lasciatemelo anticipare un giudizio così lo potremo mettere a confronto il giorno dopo, è un processo che comunque finirà, finirà male per la regione e per chi l'ha guidata, per chi l'ha governata prima di me, perché o il processo finisce con l'assoluzione del gestore e allora vuol dire che il gestore ha ricevuto un danno dalla regione, cioè che la regione non ha mantenuto gli impegni e ha provocato un danno, oppure è il gestore che è colpevole della malversazione, del fallimento e così via e la regione non ha vigilato e non è stata in grado di fargli ottemperare al contratto che aveva sottoscritto, quindi la verità oggettiva dei fatti è che un certo soggetto che oggi è sotto processo per questo tema, io ce l'ho trovato dentro, non ce l'avevo messo io, ce l'ho trovato, qualcun altro aveva affidato in concessione le nagliari e me le ha fatte trovare senza impianti di riscaldamento efficienti, senza alcun intervento di manutenzione fatto qui in quelle piscine, l'acqua trasuda sotto di chi la frequenta, sa che trasuda l'acqua della piscina nella palestra sottostante e quindi quando le abbiamo riaperte abbiamo dovuto scegliere se chiudere la palestra o tenere vuota la piscina e il club acquatico che l'aveva in mano aveva deciso di tenere vuota la piscina aprendo la palestra e in programma aveva quello di rifoderare e impermeabilizzare la piscina per poterla riaprire nei prossimi giorni, purtroppo quella procedura di recupero si è interrotta per le ragioni che abbiamo detto, però poi negli altri due gestioni successive, una è fallita per il Covid, tutte le piscine d'Italia hanno chiuso durante il Covid, tutte, non le nagliari, tutte hanno chiuso durante il Covid, hanno litigato dentro l'associazione temporanea di impresa perché quando i soldi non bastano si litiga anche tra moglie e marito, figuriamoci tra la Pinguino e le altre associazioni sportive che stavano lì e quindi è andata a gambe all'aria, abbiamo fatto una nuova concessione, è entrata la pretuziana, è arrivata la guerra in Ucraina, il piano economico che si reggeva sempre in maniera molto fragile salta quando ti arriva una bolletta che è dieci volte gli anni precedenti e quindi anche la pretuziana ha preso e ha chiuso, poi lasciamo perdere appunto come se n'è andata e che poteva evitare di svuotare le piscine senza neanche comunicarlo o condividerlo con il proprietario perché si poteva anche gestire diversamente la cosa, però è andata così, è quello che è successo, noi ci siamo premurati di fare in modo che quell'impianto non rimanesse, ci abbiamo speso centinaia, abbiamo anzi ormai 800 mila era prima ancora dell'affidamento alla pretuziana, la somma dei soldi spesi che nessuno ha mai speso per sostituire pompe, caldaglie, portare via rifiuti, abbiamo portato via quintali di rifiuti da dentro le nagliati, così le abbiamo trovate, allora io non accetto lezioni da chi ci ha fatto trovare le nagliati in quelle condizioni e oggi si mette a fare il professore, a sventolare le cartuccelle, a insinuare che ci siano stati interessi privati, a fare illazioni su che cosa è accaduto dentro le nagliati, io alle nagliati tornerò a tuffarmi quando le riapriremo, alla faccia di chi ha scommesso sul fallimento delle nagliati perché sanno fare politica solo così, scommettere sui fallimenti e lavorare al boicottaggio di quello che faticosamente si cerca di ricostruire dopo i fallimenti veri che ci hanno lasciato in dote, che sono sotto gli occhi di tutti e che sono nelle aule dei tribunali sotto processo. Bene, allora ci fermiamo per l'ultima pausa, poi andiamo sul rush finale, abbiamo ancora tantissimi argomenti quindi andiamo un po' più serrati, linea alla regia. Bene, siamo tornati in studio per la parte conclusiva di questa intervista al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ultimo rush di domande e di risposte con il Presidente da parte di Piero che riprende lui. Ci sono tanti i temi, però chiudiamo la vicenda delle nagliati, ma una curiosità, lei me la deve soddisfare, l'acqua era fredda o era calda? No, no, era a temperatura. A temperatura giusta, perché la sensazione che si ha avuto è che non fosse così… Eh vabbè, è durata un giorno quella… Vabbè, vabbè, passiamo ad altro. Dunque, prima si parlava di infrastrutture e di trasporti, adesso vorrei fare una domanda con una doppia chiave, sia per quanto riguarda i servizi che per il turismo. Prendiamo come riferimento Milano che è considerata ragione, secondo me, non secondo me, ma da tutti, la capitale economico-finanziaria del nostro Paese. L'Abruzzo rispetto alla capitale economico-finanziaria del nostro Paese vive una condizione quasi di isolamento, perché il volo, vabbè, l'abbiamo perso e in qualche modo bisogna riorganizzarsi. L'autostrada è un percorso a ostacoli per via dei cantieri, per fortuna c'è la pausa natalizia e qui in qualche giorno saremo un po' più tranquilli. In treno, se decidiamo di andare in treno, occorrono 4 ore, 4 ore e mezza per raggiungere Milano. Lei ha la sensazione di questo isolamento, che è un segnale anche di arretratezza, se mi consente, un territorio rispetto a una città, a un punto di riferimento così importante… Ma guardi, è esattamente il punto di partenza da cui siamo partiti 5 anni fa, l'isolamento dell'Abruzzo e la sua esclusione dalle direttrici principali dei corridoi di mobilità, compresi quelli europei. Abbiamo ottenuto nel corso di questi 5 anni questo riconoscimento, siamo entrati nel corridoio adriatico pienamente e quindi si cominciano a fare le politiche che servono, naturalmente non si fanno in un giorno, intanto sul treno la notizia buona è che abbiamo accorciato di mezz'ora il tragitto verso Melano, il nuovo servizio prevede mezz'ora in meno di percorrenza e quindi Milano diventa raggiungibile con meno difficoltà. Il volo, è vero che non c'è il volo diretto per Linate, c'è però un volo frequente giornaliero per Bergamo che di fatto è il terzo aeroporto di Milano e l'affallimento di Ita ha portato con sé la chiusura del volo su Milano anche perché la concorrenza diretta di Ryanair su Bergamo portava Ita a fare i voli semideserti e accumulare 5 milioni di debito l'anno. Quando è finito il carrozzone all'Italia che ripaga il debito a fine anno con le tasse dei cittadini spendendo miliardi di ricapitalizzazione ogni anno è finito il volo su Linate, noi come stiamo reagendo a questo? Facendo quello che si sarebbe magari dovuto fare già da tempo è quello di prendere atto della mancanza di continuità territoriale, è una procedura abbastanza lunga ma non lunghissima che è già partita, prima dell'estate abbiamo già attivato la richiesta con i competenti uffici del Ministero dei Trasporti, abbiamo affidato qualche settimana fa a una società di consulenza e di studi la predisposizione del rapporto che deve essere presentato prima al MIT e poi tramite il MIT alla Commissione Europea perché ci venga certificato e rilasciato questa attestazione che l'Abruzzo ha appunto una mancanza di continuità territoriale e può quindi finanziare con soldi pubblici questi voli perché noi altrimenti non possiamo farlo, incorriamo nelle ire della Corte dei Conti che ci manda di fronte alla Corte Costituzionale invocando il divieto di dare aiuti di Stato alle aziende, compresa la Saga che è il nostro gestore dell'aeroporto, stiamo rafforzando la Saga che sta facendo una campagna di pubblicità, di marketing che consente alla Saga di affrontare anche le spese perché paradossalmente le difficoltà finanziarie attuali dell'aeroporto che chiuderà il bilancio di quest'anno anche in leggera perdita, ma è una perdita che io considero virtuosa perché questa perdita è dovuta al fatto che il contratto con Ryanair funziona molto bene, Ryanair ha portato non da sola però principalmente Ryanair a sfondare la quota di 800 mila passeggeri l'anno, eravamo partiti da quasi 600 mila, l'anno precedente la mia elezione erano meno di 600 mila, siamo poi passati a oltre 600 mila, poi c'è stato il Covid abbiamo ripreso con una crescita impetuosa 20-25% di passeggeri in più l'anno, quindi è vero che esiste un problema su Milano, ma non si può raccontare che l'aeroporto d'Abruzzo sia fermo, chiuso, è un aeroporto che sta sfondando anno dopo anno tutti i record di traffico e di passeggeri, questo però comporta un incremento dei costi perché le compagnie aeree non ti portano gratis i passeggeri, vogliono essere ripagate per il traffico passeggeri e questo faremo altri investimenti per allargare i parcheggi, anche perché i parcheggi oltre a offrire il servizio portano anche delle entrate e noi nei momenti di punta abbiamo i parcheggi ormai esauriti e quindi faremo un ampliamento del parcheggio, faremo un investimento per mettere gli impianti, incrementare le energie alternative con gli impianti fotovoltaici per abbattere il costo dell'energia in modo che si abbia una maggiore leva finanziaria e io spero entro l'estate prossima che la Commissione europea ci riconosca questo diritto alla continuità territoriale che consentirà allo Stato e alla Regione di mettere fondi pubblici per alimentare i voli diretti su Milano-Linate sicuramente, ma anche se ce lo riconoscono anche su Torino o su altre destinazioni, quello è oggetto della relazione che deve fare la società di consulenza e verificare su quali direttrici noi abbiamo una carenza oggettiva di collegamenti che giustificano un intervento pubblico per tenere questi voli. Bene, Presidente parliamo un po' di economia anche, i dati Istat del terzo trimestre 2023 dicono che la situazione in Abruzzo fa registrare un'incoraggiante ripresa sotto l'aspetto economico occupazionale, però restano forti criticità legate soprattutto al lavoro giovanile e al lavoro delle donne. Anche questi segnali, se mi consente Presidente, sono indicatori di arretratezza anche di un territorio perché il lavoro giovanile e il lavoro delle donne dovrebbero essere priorità di un governo regionale. Infatti sono la priorità del Fondo Sociale Europeo, delle destinazioni, delle risorse per la formazione, l'apprendistato, la formazione continua, il reinserimento lavorativo delle categorie deboli e fragili, quindi la parte principale delle risorse economiche destinate attraverso il Fondo Sociale Europeo ha proprio destinato a queste fattispecie, a queste categorie. La condizione soprattutto del lavoro femminile in Abruzzo, noi abbiamo trovato l'Abruzzo che era una condizione di particolare arretratezza rispetto alle altre regioni d'Italia, alla media nazionale era uno degli indicatori peggiori, quello della par percentuale di donne impegnate nel lavoro, tant'è che i dati Istat hanno mostrato una crescita in questo senso, anche perché si partiva da molto basso. Ci continueremo a lavorare, però credo che il stato di salute generale sia uno stato di salute positivo, buono, noi siamo una regione che nell'ultimo semestre ha fatto il 13% di crescita delle esportazioni, mentre l'Italia registrava l'1%, abbiamo incrementato del 6,8% l'occupazione, compresi i giovani e le donne, mentre l'Italia segna il 2%, non dico solo perché segnare più 2% è un risultato importante del governo nazionale e credo che avremmo tutti firmato per avere un 2% l'anno in più di occupazione e quindi magari questo trend continuasse negli anni a venire, abbiamo registrato anni in cui si scendeva l'occupazione, però in un quadro in cui l'Italia cresce del 2%, l'Abruzzo cresce più del triplo nell'incremento dell'occupazione, sono segnali incoraggianti, come incoraggiano molto, segnali molto concreti, a parte adesso nella giornata di oggi siamo stati a manoppello con il commissario della ZES a inaugurare lavori, a consegnare lavori all'Interporto, si stanno facendo opere importanti che sbloccano alcune piattaforme, piastre logistiche che servono allo sviluppo delle imprese, imprese nuove vengono in Abruzzo, Brunello Cucinelli a Penne, è una notizia davvero sulla quale è difficile non gioire e non registrare che 5 anni fa sembrava che dovesse chiudere Brioni, adesso noi abbiamo Brioni che si sta rilanciando e arriva anche Cucinelli e non è il solo perché questa tendenza si sta registrando anche con altri grandi marchi, io ho visitato diversi anche distretti del Tessile sia nella Val Vibrata che nella Marrucina dove i migliori marchi del mondo continuano a fornirsi e danno sempre nuove forniture alle nostre aziende trovando qui qualità ed eccellenza sia artigianale che industriale nella produzione e questi sono segnali importanti, altro che declino, oggi l'Abruzzo, si parla dell'automotive, oggi l'Abruzzo è la prima regione in Italia per produzione di autoveicoli perché i quasi 250-300 mila veicoli furgoni che si fanno ad Atessa sono in numero assoluto il maggior numero di veicoli fatti in una singola regione, nel Piemonte, nella patria dell'automobile, la Fiat, nel Piemonte si fanno 100-120 mila veicoli l'anno, quasi un terzo, facciamo almeno il doppio Presidente ma sul futuro del gruppo Stellantis anche col tavolo del Ministro Urso ci sono delle prospettive positive? Ma certo che ci sono prospettive positive, avete mai visto la Fiat sedersi al tavolo del Ministero con sindacati, parti sociali, tutte le regioni che hanno gli impianti e stabilire con il Ministero un percorso che prevede un accordo chiaro sul fatto che se il governo italiano spende miliardi per incentivare l'automobile, l'automobile si deve produrre in Italia, nessuno gliel'ha mai detto non è che è cattiva la Fiat o Stellantis, nessuno gliel'ha mai detto, Urso gliel'ha detto, il governo Meloni glielo dice, coinvolge tutti i territori, stiamo costruendo quindi un progetto tagliato su tutta la filiera e su tutti gli impianti e l'obiettivo, perché la storia precedente, non voglio risalire a chissà quando, gli ultimi anni 5 miliardi di incentivi dati dai governi della precedente legislatura al settore dell'automobile, questi 5 miliardi, 4 sono finiti all'estero, perché se io posso comprare indifferentemente con quel bonus, la Volkswagen, la Renault, la Fiat piuttosto che la Ford, scelgo, vado al concessionario e scelgo, risultato, le case automobilistiche incassano, ma i lavoratori italiani vengono messi in cassa integrazione, le fabbriche chiudono, allora perché diamo questi incentivi? Non sono più un incentivo per l'industria automobilistica, magari è un incentivo alle famiglie, è un altro capitolo, ma non chiamiamolo incentivo all'industria automobilistica, se vogliamo sostenere l'industria automobilistica ci dobbiamo parlare, gli dobbiamo dire, noi siamo disposti e il Ministero ha mostrato che ci sono 8-9 miliardi di Euro pronti sotto diverse voci per sostenere la transizione all'elettrico, l'innovazione e così via, però gli è detto chiaramente, questi soldi devono restare qui e se noi spendiamo 8-9 miliardi di incentivi per l'automobile tu mi devi far vedere che adesso produci non 400 mila, ma un milione di automobili in Italia, che riassorbi i lavoratori, che dai un futuro alle nostre aziende, compresa Adessa, che deve avere una chiara prospettiva di innovazione tecnologica e di futuro ed è quello che stiamo facendo, io sono ottimista su questo anche perché ho visto la differenza tra il Ministro Urso e i Ministri precedenti che mai ci hanno chiamato a fare un tavolo del genere e che mai si sono preoccupati di dire a Stellantis che se vogliono i soldi pubblici devono pure restituire al territorio che glieli ha dati, ai cittadini che glieli hanno dati, qualche cosa indietro. Direttore, l'ultima domanda di questa trasmissione, poi facciamo gli auguri ai nostri spettatori che facciamo gli auguri, ovviamente. Sì, in attesa di sondaggi locali, diciamo così, regionali, noi dobbiamo fidarci e affidarci ai rilevamenti nazionali, diciamo così, quelli che settimanalmente vengono proposti anche nelle varie tv nazionali. In base ai numeri, pare che questo campo largo che cercano di costruire dall'altra parte abbia i numeri per giocarsela alla pari con il centrodestra, parlo del campo largo ma inteso in senso molto largo. Lei non teme che alla luce di quei numeri ci possa essere il rischio di sottovalutare un po' questa competizione elettorale e quindi il suo avversario? Io ho esordito, sin dal giorno in cui designarono la candidatura di Luciano D'Amico, a non sottovalutarlo. Non si respira aria di una vittoria già acquisita nel centrodestra, no? No, io respiro un'aria di grande ottimismo anche perché quando poi si gira sul territorio e vedi che c'è soddisfazione, che ci sono amministrazioni che riconoscono il buon lavoro fatto, categorie che sono soddisfatte, si crea un clima di fiducia. Pensiamo che questa fiducia sia anche tutto sommato meritata, si può sempre fare di più e di meglio, ed è quello che cercheremo di fare nei prossimi cinque anni, però io credo che il lavoro e i risultati fatti potranno produrre un risultato che ci premierà. Dopodiché sono d'accordo nel dire attenzione, perché non è tutto scontato, quindi il lavoro fatto bisogna raccontarlo e spiegarlo bene, noi abbiamo fatto una serie di convegni, l'ultimo quello ad Avezzano sull'agricoltura, ma precedentemente a Teramo sulle aree interne e poi ne abbiamo fatti diversi, per raccontare settore per settore che cosa abbiamo realizzato, altrettanto stanno facendo tutti gli assessori, tutti i consiglieri, tutti i candidati e io invito tutti i partiti, i movimenti, la lista civica, sto organizzando una robusta lista a sostegno del sottoscritto, la lista Marsiglio Presidente che concorrerà insieme a tutti i partiti del centrodestra, anche il nostro campo è sufficientemente largo per competere quantomeno ad armi pari, e quindi però avete ragione e rinnovo l'invito a tutti i miei amici e sostenitori a non considerare la vittoria in tasca e scendere in campo con la determinazione che ci serve per non lasciare nulla al caso. Anche perché, lo ricordiamo, in Abruzzo e non solo in Abruzzo, anzi a livello nazionale, a votare ormai va soltanto un elettore su due, quindi va ricostituito anche però il legame di fiducia con… Nel frattempo le provinciali ci stanno dando qualche soddisfazione, perché poi il termometro sul territorio lo vedi lì, la maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali a Teramo, in una provincia dove il Presidente non è di centrodestra e dove il capoluogo è del PD, vince il centrodestra, all'Aquila non c'è stata partita, è finita 8 a 2 a sostegno del Presidente uscente Caruso, che fa notare la differenza, dove c'è un Presidente che non è di centrodestra, il centrodestra prende la maggioranza, dove il Presidente di centrodestra dilaga, quindi poi attendiamo adesso, stiamo a scrutinio in corso per le altre proglie. Presidente, dicevo appunto della disaffezione un po' di tutti nei confronti della politica, anche delle cose negative che sono accadute quest'anno, ce ne sono invece di fotografie belle di questo 2023 che lei vuole portare come regalo di fine anno agli abruzzesi, pensando di aver fatto cose positive per tutti i cittadini di questa regione, soprattutto che cosa augura per l'anno nuovo all'Abruzzo, questo glielo chiedo in veste istituzionale, non elettorale naturalmente, visto che siamo sotto l'albero di Natale. L'anno nuovo è un anno particolare che vedrà aprire i cantieri per almeno tre ospedali, se non quattro, nuovi, l'anno che abbiamo appena passato ci regala la cartolina di un Abruzzo conosciuto che ha stupito il mondo intero con la costa dei Trabocchi, scenario della grande partenza del Giro d'Italia di cui ancora si parla e che continua a produrre benefici importanti per la valorizzazione del nostro territorio, abbiamo sperimentato quest'anno e lo continueremo a fare perché è stato un grande successo, il prossimo, anche altre iniziative che hanno diffuso la cultura tradizionale abruzzese come la Notte dei Serpenti, è andata sul Rai 1 in seconda serata, 10% di audience, un milione di spettatori in tutta Italia che hanno conosciuto i nostri balli, le nostre canzoni, il maestro Melozzi ha appena pubblicato il disco, un progetto che continuerà perché intorno alle tradizioni autentiche della nostra terra si costruisce il futuro, si costruisce la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, ho parlato prima di Cucinelli, quanto è bello vedere che il re del Kashmir che veste il mondo intero e il meglio che il mondo intero esprime, quei capi verranno cuciti qui e viene qui perché, lo dice lui, per fare una giacca da uomo bisogna andare a penne, bisogna stare in Abruzzo e stiamo parlando di occasioni che hanno riportato l'Abruzzo all'attenzione del mondo intero, sono i frutti delle nostre politiche e io spero che questo possa continuare a andare avanti e che comunque il 2024 sia un altro anno di successi e di crescita per tutti gli abruzzesi. Direttore, facciamo anche noi gli auguri ai nostri lettori e telespettatori rimandando chi si è collegato soltanto adesso e che è abbastanza tardi a rileggersi un po' domani sulle pagine del quotidiano, insomma, i tanti spunti perché stavolta ci sono diversi titoli, l'ampia sintesi, io resterò sempre con la curiosità di vedere che titolo ci vede, le naie di questa volta mi sembrano un po' in pole position, però poi deciderai il direttore per carità, tra qualche ora, tra qualche tempo, prendo atto che la piscina delle naie è l'argomento principale dell'Abruzzo, il tuffo del Presidente resta una delle immagini di più significative. Poi rischiate di farvi dire che siete pescara centrici. Esatto, allora dobbiamo fare un titolo diverso, va bene, tanti auguri ovviamente a tutti, a quelli che ci seguono, a quelli che leggono il giornale, a tutti i cittadini abruzzesi perché ce n'è veramente bisogno per un 2024 che ci possa permettere di superare qualche problemino in più e recuperare un po' di serenità che è andata anche un po' persa. Io con un'ultimissima curiosità ce l'avrei per il Presidente, però in tema di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, lo slogan cognato da Pettinari, candidato sindaco a Pescara, destra e sinistra sono le due facce della stessa medaglia, secondo lei è solo uno slogan elettorale o c'è della sostanza? È solo uno slogan elettorale, figlio di quella cultura che specula sulla disaffezione e che spera di recuperarla dipingendo la politica come se fosse solo malaffare. Purtroppo anni passati a pubblicare libri contro la casta hanno prodotto questo, che poi si è creato questo humus, abbiamo visto quando hanno governato quelli che non erano né di destra né di sinistra, quali danni hanno prodotto e come rapidamente i cittadini abbiano cambiato verso, hanno avuto l'occasione di governare grandi città come Roma, Torino, Livorno, se ne sono scappati, quindi facciamo attenzione a certe avventure perché chi ci è capitato se ne è pentito amaramente e sta ancora peccandosi le ferite di quello che hanno prodotto certi sindaci grillini né destra né sinistra. Allora con questa riflessione pacifica sotto l'albero noi ci salutiamo. Per chiudere la rappresentante più importante di quell'area adesso comunque nella vostra coalizione, quindi intendo la sala Marcozzi. Qui sono persone, non c'è solo lei, c'è anche Cipollesi che ha aderito al mio partito, ci sono persone che quando hanno visto all'opera hanno riconosciuto con onestà intellettuale che qualcuno ha realizzato, perché quando uno fa dieci anni di campagna dicendo che nessuno aveva fatto la risonanza, c'erano i camion per le risonanze e qualcuno porta le risonanze magnetiche, c'è chi con onestà intellettuale dice questo Presidente ha realizzato le cose, ha mantenuto gli impeci, ha mostrato dei risultati positivi, quindi essere così non pregiudizialmente né di destra né di sinistra, in senso buono può voler dire misuriamo i risultati e qualcuno sui risultati si è confrontato e ha deciso di sostenere il buon governo e chi ha fatto questi risultati positivi. Poi c'è chi invece deve speculare raccontando sempre io solo, solo io, solo io, sono quello che salverà il mondo, vediamo se salverà il mondo, però chi si è presentato in epoca recente a salvare il mondo in città anche molto importanti come Roma e Torino, i romani e i torinesi stanno ancora piangendo per le conseguenze. Bene, allora non resta che anche da parte mia fare gli auguri ai nostri telespettatori, regaleremo loro proprio venerdì a quest'ora la prima serata dedicata a un anno di cronaca, rivedremo insieme il 2023 nei flash dai nostri servizi dai notiziari che naturalmente poi verranno riproposti nel corso di tutte queste vacanze di Natale e di fine anno. Dunque, buone feste anche dai fatti e le opinioni che torna ovviamente subito dopo l'Epifania. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.